Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi Oggi inauguro un po' quella che sarà la rubrica del mio marzo perché come tutti gli anni cerco di dedicare marzo a approfondimenti molto consistenti della mia rubrica principale che è il Feminist Friday e in questo caso ho pensato quest'anno di dedicare tutti i venerdì del mese a delle autrici in particolare e in questi Feminist Friday facciamo un percorso insieme che vorrei chiamare antologica ovvero ripercorriamo un po' insieme le tappe principali degli iscritti di alcune autrici secondo me molto rilevanti e che vorrei approfondire per parlarne insieme a voi e spero che possano diventare anche degli spunti per avvicinarvi un po' a queste autrici che io amo molto e che sono molto diverse tra di loro e che quindi insomma avevo voglia di parlarne e penso che sia un modo molto carino per gestire questo marzo i contenuti di marzo con cose che secondo me sono molto importanti e che mi stanno a cuore come sempre da cosa partiamo oggi? partiamo parlando di Zadie Smith Zadie Smith è un'attrice molto peculiare ma che ha inciso davvero tantissimo negli ultimi vent'anni quantomeno nel panorama della fiction contemporanea Zadie Smith nasce nel 1975 a Londra da padre inglese e da madre giamaicana cresce nella zona del Brent che è una zona nord-ovest della città e che è un ambiente estremamente vario-pinto estremamente multiculturale come tante zone di Londra Zadie Smith cresce in questa zona frequentando la scuola pubblica e dedicandosi alle attività più disparate infatti passa dal tip-tap a voler diventare un'attrice di musical sogna di diventare una giornalista ma anche una cantante in ambito jazz insomma la Smith ha sempre dimostrato di avere una creatività davvero illimitata in realtà Zadie Smith non è nata Zadie cioè con la Z in realtà si chiama Zadie che è un nome abbastanza diffuso in Inghilterra in realtà credo che sia di derivazione coloniale, post-coloniale però comunque insomma e invece proprio Zadie Smith cerca di dare un tocco esotico che rappresenta fondamentalmente chi è e come si sente anche attraverso il proprio nome infatti lo cambia proprio perché lo trovava più esotico durante il suo percorso di studi al King's College di Cambridge pubblica diversi racconti all'interno di alcune antologie studentesche viene notato dall'editor Nick Leard che Vossip diventerà anche suo marito il suo romanzo d'esordio che è forse uno degli romanzi più destabilizzanti del panorama della fiction europea degli ultimi anni si chiama Denti Bianchi ed è stato anche soggetto di una guerretissima asta per accapararsi i suoi diritti e vede la pubblicazione finalmente nel 2000 Denti Bianchi è una narrazione vorticosa, isterica Denti Bianchi è una narrazione vorticosa, isterica e anche improbabile in alcuni suoi passaggi in quello che è un vero e proprio turbine di idee sull'identità, sul razzismo e anche sull'antagonismo religioso infatti Samad e Archie riuniti più che altro per grande sfortuna e per discutibili circostanze di guerra trascorrono la maggior parte del loro tempo in un pub inglese molto tradizionale e molto decrepito Archie sposa una donna giamaicana che incontra su una scala durante la festa di un capodanno a casa di uno sconosciuto e la moglie di Samad, cioè Alsana e la moglie di Archie, Clara diventano molto amiche i figli sono ovviamente inglesi di prima generazione con storie aspettative molto diverse tra di loro infatti i loro figli abitano in una zona che potrebbe essere definita terra di nessuno tra tradizione e tra aspettative familiari ma anche tra il contesto che si trovano a vivere e una sorta di identità che cerca di definirsi tra ciò che la famiglia è e ciò che comporta l'eredità culturale ma anche il luogo che abitano e che sentono come la propria casa questioni di lealtà, tradizione, identità emergono ovviamente più si va avanti nella lettura di denti bianchi perché ci troviamo di fronte a un inevitabile conflitto e a un'inevitabile evoluzione in una società molto scricchiolante quando le due famiglie incontrano i child fans che sono una famiglia di intellettuali bianchi molto benestanti ci portano anche all'interno di un finale di un libro che ha delle tinte molto thriller anche denti bianchi è qualcosa che ha in realtà molto a che fare con questioni di razza di identità, di appartenenza di senso di appartenenza però allo stesso tempo non percorre mai vie facili per affrontare queste tematiche anzi probabilmente il suo scopo principale è proprio quello di mettere alla luce la complessità, la stratificazione che tutte queste tematiche assumono ovviamente e anche alle differenze che esistono nei vari contesti insomma non si va mai in contesti ovvi dove ciò che ti guida sono i denti bianchi i sorrisi e le persone che hanno i denti bianchi ma va molto più a fondo nei suoi personaggi nella loro famiglia, nelle loro tradizioni senza mai predicare senza mai risultare retorica senza mai mostrare solo i lati migliori dei propri personaggi anzi mettendo in campo tutte le differenze tutti gli attriti tutte le zone grigie che ci rendono fondamentalmente uguali nella nostra umanità pur essendo tutti diversi con tradizioni e bagagli culturali molto diversi insomma io adoro perché denti bianchi non risulta mai retorico e lei riesce sempre a non essere mai retorica non raccontare solo una storia che può sembrare semplicemente molto tenera nei confronti delle persone delle quali solleva i problemi in fondo denti bianchi riguarda tanto l'inerzia tanto la volontà di radicarsi sulle proprie convinzioni tanto quanto il libero arbitrio rappresentato ovviamente da generazioni anche diverse e lo splendore vero di questo libro è che Zaddy Smith affronta tutta questa complicità e tutta questa narrazione con un umorismo incredibile supportata chiaramente da un grande talento che crea una vera e propria magia narrativa evita quella trappola dove la banalità e la predica diventano più o meno gemelle è una storia che gira è una storia che va avanti e che procede mostrandoci un vero e proprio quadro un quadro complesso soprattutto permette al lettore di affrontare una realtà che probabilmente non aveva considerato insomma le stesse difficoltà che affrontano i nostri protagonisti Archie Jones e Samal Iqbal e affrontiamo così proprio le difficoltà che hanno sperimentato al loro arrivo nel 1945 ma anche ciò che invece è il contemporaneo problemi che invece hanno a che fare con un'identità trasformata e una società con un tessuto sociale molto diverso rispetto al 1945 ovviamente tenendo conto della società inglese all'inizio degli anni 2000 insomma quanto è diversa una generazione rispetto l'altra? ovviamente una generazione che ha a che fare con la migrazione che ha a che fare anche con questioni più complesse come quelle del colonialismo insomma quante differenze ci sono tra una generazione e l'altra e allo stesso tempo come una influisce sull'altra? Zaddy Smith ci restituisce anche una visione che in un certo modo ci mostra come siano molto polarizzate scienze e religione cosa definisce la virilità? che cosa definisce l'essere un uomo? c'è un'innegabile verità che ci troviamo ad affrontare di secoli di servilità condizionata quell'odio viscerale per quel potere che ha stabilito le regole e che di base ha creato questa sproporzione questo assoggettamento insomma definisce quasi come una vera e propria relazione abusiva il colonialismo insomma quell'incondizionata responsabilità di sopportarne il suo peso di sopportare il peso di ieri del passato insomma come una piccola azione porti ad altri e ad altri imprevedibili insomma come ogni azione poi porti a una serie di conseguenze imprevedibili che però hanno radici molto comuni e molto simili e quindi come se in fondo anche tutta la realtà fosse estremamente connessa l'una con l'altra insomma è come se tutta la vita e la realtà siano fatte di intrecci connessi l'uno con l'altro attraverso poi quella che è una storia familiare una storia familiare in evoluzione lo stile di Zadie Smith già da questo primo volume che è Denti bianchi si presenta già da subito molto curato quasi fin troppo ogni personaggio viene descritto ed è racchiuso in un perfetto equilibrio di parole e di frasi lo stile è caratterizzato da una sovrabbondanza di aggettivi da frequenti digressioni su fatti secondari e apparentemente molto minimali e un certo massimalismo insomma fate conto che proprio per Denti bianchi è stato cognato un termine dalla critica che è quello di realismo isterico o anche postmodernismo ricercato caratterizzato da una lunghezza cronica e frequenti digressioni su argomenti apparentemente secrondari rispetto alla storia ovviamente non l'ha inventato Zadie Smith ma è stato palese durante la sua lettura per alcuni critici quindi insomma è qualcosa che già dal suo debutto ha fatto rumore invece nel 2002 esce l'uomo autografo che è il suo secondo romanzo e anche se la critica non l'ha accolto con lo stesso entusiasmo con il quale aveva accolto poi i denti bianchi in realtà il pubblico ne ha decretato invece un grande successo The Autograph Man racconta la storia di Alex Lee Tandem un ragazzo inglese di origini per metà cinese e per metà ebraiche che vive in un quartiere periferico di Londra dove la comunità ebraica è molto radicata ha una ragazza nera e nella sua compagnia ci sono un rabbino e un ragazzo nero ebreo ed osservante il nostro protagonista scrive Pample dove insomma si scaglia contro la propria religione la rifiuta in qualche modo litiga con i rabbini e a 27 anni dopo aver combinato poco o nulla riesce a guadagnare qualcosa commerciando e smerciando alcuni autografi delle star ha questo mercato sottobanco di autografi di persone famose li colleziona, li vende e li falsifica nel frattempo insomma vorrebbe che fossero abolite tutte le religioni vorrebbe avere tre ragazze diverse e soprattutto desidera un rarissimo autografo di un'attrice ormai dimenticata del cinema muto insomma tutto il contrario di quello che si augurerebbero che succedesse a lui nella vita i suoi più cari amici allora Alex è un personaggio che è piuttosto antipatico in realtà non è un personaggio facile da amare è un personaggio che quando lo leggiamo difficilmente riusciamo a connettere con qualcuno di così davvero poco amabile però devo dire che ci sono talmente tante battute ricorrenti all'interno della narrazione che compensano molto i difetti che al personaggio di Alex allora da un lato tutti quelli che noi incontriamo sono allo stesso tempo completamente imparziali e allo stesso tempo completamente inaffidabili il dialogo è sempre molto onesto e molto esilarante forse proprio perché poggia su delle basi abbastanza disincantate e molto amare e quindi si prende in giro già di per sé un vero e proprio processo di restringimento è un uomo che perde man mano sempre di più la propria autenticità è un uomo che si occupa di trovare delle vere e proprie scorciatoie nella vita e rappresenta proprio un uomo che fondamentalmente si guarda e guarda all'esterno, osserva ma non riesce mai a essere incisivo non riesce mai a faticare è un elemento veramente di farsa pure semplice però allo stesso tempo porta con sé questo sogno di fuga questo sogno di evasione intrappolato come in una sorta di panico per tutto ciò che è la sua vita reale e noi percepiamo che questa sua irriverenza questo suo combattere la religione in maniera così estrenua questa insoddisfazione perenne, questa anche ricerca di non realizzarsi nella vita o non riuscirci mai perché si hanno aspirazioni troppo fuori dalle proprie possibilità si frappongono proprio con qualcosa di più sostanziale la Smith in questo volume tocca davvero degli apici molto alti per raccontare il pathos anche quello più timido quello forse che nessuno di noi considererebbe come un gesto gentile verso una persona cara come forse anche la rabbia che ti scatena un qualcosa che dal di fuori sembra effimero invece o sembra irrilevante cioè la storia appare così come ve l'ho raccontato anche piuttosto sconnessa ma è sempre un po' più silenziosa e pertinente perché tramite piccoli episodi e in questo dipingere sia i personaggi che i loro dubbi, i loro drammi eccetera riesce ad essere sempre coinvolgente e anche molto intelligente nel rappresentare le fratture che noi viviamo quotidianamente dopo The Autograph Man dopo un periodo trascorso come visiting fellow presso l'università di Harvard la Smith torna nel 2005 con Home Beauty tradotta in italiano con della bellezza che a me viene sempre da dire sulla bellezza Howard Pelsi e Monty Kips sono due storici dell'arte sempre in aspro contrasto il primo ricopre un ruolo di professore di storia dell'arte in un piccolo college artistico liberale dei soborghi di Boston l'altro insegna con più fortuna a Londra Belsi è stato sposato per 30 anni con Kiki una donna americana che non assomiglia più all'attivista giovane, prorompente e sexy che era una volta i loro tra figli seguono appassionatamente i propri percorsi Levi ricerca le sue radici nella maniera più autentica Zora crede che gli intellettuali possano far riscattare tutti e Jerome lotta per essere un credente in una famiglia di atei rigorosi di fronte agli entusiasmi e opprimenti dei suoi figli Howard sente che una parte della sua vita si è conclusa e che non ha idea di comandare avanti il futuro quando Jerome, il figlio maggiore di Howard si innamora di Victoria la splendida figlia dell'icona di destra Monty Kips le due famiglie si ritrovano insieme in America mettendo in atto un conflitto culturale, razziale e personale sullo sfondo di vere guerre che a malapena registrano una serie di episodi metterà in moto una cantina di eventi che vede tutte le parti costrette a esaminare le certezze della loro vita come scegli il lavoro della tua vita? perché ami le persone che ami? credi davvero in tutto ciò che affermi? e qual è la cosa più bella, più preziosa per te? e quanta fatica sei disposto a fare per averla? protagonisti di Home Beauty sono due famiglie apparentemente agli antipodi una di bianchi e una di neri legate da relazioni complesse e conflittuali anche al loro interno fatte di rivalità, di confronto e di scontro le loro interazioni sono il fulcro del romanzo i temi dell'amicizia, del matrimonio, della tensione sociale, dell'espressione artistica sono raccontate con una serietà non rigida, rara nella narrativa contemporanea e in una certa misura il libro potrebbe essere visto come un tentativo piuttosto eroico di nobilitare la vita contemporanea nella sua estrema ordinarietà dei conflitti liminalità è un termine che appare a un certo punto del romanzo e secondo me ne è la chiave la liminalità è la qualità dell'ambiguità o del disorientamento che si verifica nella fase intermedia di un rito di passaggio ovvero quando i partecipanti non mantengono più il loro stato pre-rituale ma non hanno ancora iniziato la vera e propria transizione verso lo stato che poi manterranno quando il rito sarà completo insomma quella soglia che lascia molte porte aperte che vanno ancora esplorate anche proprio in questa fase dopo la pubblicazione della bellezza Zadie Smith scrive numerosi racconti spesso pubblicati sul New Yorker tra cui Martha and the Hunwell e poi ripresi in un volume da Penguin con un'introduzione dell'autrice e inizia a lavorare come professoressa prima alla Columbia e poi alla New York University insegnando fiction nel 2012 invece arriva il nuovo romanzo N.W. dopo questa parentesi americana che avevamo avuto con della bellezza torniamo nella Londra tanto cara a Zadie e in particolare nella zona di Willisdeen da qui il nome del volume il personaggio principale soprattutto della prima sezione è Leah Hunwell di origine irlandese ma abbondantemente sopra i 30 anni cresciuta in una casa popolare in un quartiere in una zona dalla pessima reputazione ma che vive ancora nelle vicinanze anche se in condizioni molto migliori Leah ha una laurea in filosofia ma ovviamente come la maggior parte dei laureati in materie umanistiche lavora un po' senza gloria in cui l'impotenza è mascherata da un linguaggio e da una versione esteriore che si nutrono di empowerment infatti Leah è presa in giro fortemente dalle sue colleghe afro-caraibiche infatti Leah è presa in giro con vero risentimento dalle sue due colleghe afro-caraibiche per aver messo le mani su un tesoro che loro dicono essere della propria comunità quindi suo marito Michael un uomo nero e francofono che spera davvero di raggiungere il successo e di svoltare nella vita facendo investimenti online ma che per ora continua a mantenersi facendo il parrucchiere il vero difetto del matrimonio tra Leah e Michael è che Michael vuole figli ma Leah no anche se non lo ha mai detto apertamente un giorno una donna bussa disperatamente alla porta di Leah chiedendo aiuto in condizioni disperate e da lì inizierà una vera e propria svolta all'interno della narrazione quello che a me va alzato molto all'occhio leggendo WN è che c'è un rimando abbastanza palese caratteristico a James Joyce lo ricorda un po' questo libro infatti l'arco narrativo è come un vero e proprio viaggio all'interno di luoghi familiari e conosciuti dalla nostra protagonista e non solo però siamo dentro le vie, dentro le strade, dentro le comunità, dentro i personaggi, dentro la loro storia insomma tanto dentro la nostra protagonista quanto dentro tutti i personaggi che popolano il suo mondo è un ricordo che viene anche molto accentuato secondo me dalle tecniche narrative miste che adotta Zaddy Smith in questo volume e questa tecnica narrativa è stata ripresa dalla Smith proprio per rappresentare la disordinarietà il caos, il piccolo conflitto generato da eventi casuali della vita cittadina ma anche la sovrapposizione di ogni esperienza quotidiana sia del singolo ma anche di tutte le persone che fanno parte della realtà di qualcuno e mostra anche, grazie proprio a queste tecniche, quanto siano variopinte, diverse, molteplici in contrapposizione le voci all'interno di una stessa città anzi all'interno di uno stesso quartiere cioè è proprio una contorsione che significa vite e storie e di questo vi leggo un estratto che secondo me rappresenta tutto il senso del romanzo è un po' quello che succede dentro il romanzo questa dimensione casuale ma sentita fortemente all'interno di tutti i personaggi e penso sia anche un po' il riassunto di quello che ha fatto Zadie Smith in tutti i suoi romanzi e poi arriviamo a Swing Time che è il suo ultimo romanzo è un romanzo di formazione che celebra un'amicizia lunga tutta la vita un po' a tratti ricorda anche l'amica geniale infatti parla dell'amicizia in termini che hanno molto a che fare con non solo i momenti migliori ma soprattutto le sue contraddizioni infatti il romanzo racconta la storia di due ragazze di razza mista afrodiscendenti che si incontrano nel 1982 a Londra durante una lezione di tip tap la narratrice ci racconta in prima persona la sua amicizia con Tracy con lei condivide in primis la passione per la danza appena incontrate scoprono di avere questo in comune poi ovviamente si aggiungono tutte le altre esperienze tra cui l'adolescenza e tutti i segreti di una vita Tracy e la narratrice sono due personaggi molto diversi tra loro una, cioè la narratrice che non ha nome, è intelligente ma anche molto insicura Tracy invece è molto sicura di sé ma ha anche una tendenza molto autodistruttiva come per il romanzo di Elena Ferrante l'amica di talento è quella tormentata, è ribella a scuola senza una vera e propria famiglia a casa o potremmo dire con una famiglia parecchio disfunzionale e mai presente a casa mentre forse la meno dotata e talentuosa delle due è una studentessa invece molto brillante e determinata a uscire dal quartiere e ce la fa, infatti inizia a seguire una star nel suo giro per il mondo come assistente la loro infatti è un'amicizia molto stretta però allo stesso tempo super conflittuale è un'amicizia complicata come tutte le vere amicizie e che termina appena arrivano sulla soglia dei vent'anni in maniera molto brusca anche se questa amicizia di sottofondo non viene mai dimenticata da entrambe ovviamente il tutto viene ambientato in una zona molto multiculturale di Londra Londra vista come una presenza molto forte all'interno della vita di entrambe e come il rapporto con la città diventi anche molto stretto con la loro amicizia perché la città rappresenta alcune cose, alcune condizioni e alcune situazioni sociali e non solo nella quale questa amicizia trova un po' le sue forme nella quale invece trova i propri spazi nella quale si espande, si ricerca e si modifica e si trasforma e davvero per alcuni versi è simile all'amica geniale ma per altri invece è estremamente diverso perché ragiona su tutta una serie di tematiche che non hanno a che fare invece con la violenza eccetera eccetera è un altro romanzo secondo me magnifico e Zaddy Smith, un po' in questo percorso che abbiamo fatto insieme secondo me mette in luce alcune caratteristiche che balzano agli occhi anche da chi non ha mai letto una singola riga di ciò che ha scritto le sue storie raccontano un'umanità tumultuosa che cerca costantemente di definire le proprie identità ci mostra la casualità della vita cittadina e quotidiana e di come questa sia fatta da voci molteplici da quotidianità sempre diverse tra loro da esperienze diverse tra loro insomma ci mostra quante voci diverse ci sono all'interno di una singola città di un singolo spazio che sembra definito eppure è popolato da voci, occhi, visioni ed esperienze molto variegate insomma come la città come dimensione rappresenta una contorsione di significati, di vite e di storia non mancano mai all'interno dei suoi racconti temi centrali come l'identità il rapporto che ha la definizione della propria identità con il contesto culturale il conflitto che si genera con l'immigrazione sia all'interno delle persone che migrano sia verso l'esterno e quindi verso il rapporto che si ha con una società che chiaramente si rapporta con la migrazione in una maniera molto diversa in base ai contesti e le conseguenze proprio di questo insomma le questioni razziali, le contraddizioni la complessità e le difficoltà all'interno alla dimensione familiare, alla famiglia stessa ciò che ha a che fare anche con la razza con il genere, con la religione le conseguenze di colonialismo e di capitalismo cioè le conseguenze che hanno quotidianamente sulle vite delle persone e proprio come in una danza che è una delle grandi passioni di Sadie Smith queste si mescolano e vengono insomma elaborate in storie che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni e io trovo che questo sia forse l'elemento più forte, straordinario di un'autrice del genere è un po' come rappresentare un quadro dettagliatissimo ma totalmente incasinato di ciò che ci succede nel nostro quotidiano in ogni singola realtà che passa da una dimensione familiare cioè da un nucleo molto piccolo alla dimensione di città il suo commento sociale attraverso le sue opere è sempre spiritoso e penetrante io penso che lo sia soprattutto perché non si pone mai da un punto di vista quasi retorico non si pone mai come una grande lezione quello che è contenuto all'interno dei suoi libri ma è più che altro un quadro è più che altro una rappresentazione di ciò che vede con i propri occhi i suoi personaggi sono infatti sempre molto dettagliati ed estremamente complessi non rischiando mai di risultare banali retorici, macchiette insomma le sue piccole osservazioni sulla natura umana sui conflitti interni dell'essere umano sono molto preziosi e suonano molto veri anche agli occhi di chi non li vive in prima persona perché li rende estremamente universali cattura addirittura le cadenze gli schemi linguistici di una fetta di popolazione che può molto varia che popola Londra infatti parla di tutte queste mescolanze linguistiche delle minoranze all'interno di Londra dall'irlandese al caraibico all'italiano all'algerino al giamaicano all'indiano al russo cercando sempre di trasmettere come queste mescolanze siano una parte forte dell'identità che passa attraverso la lingua e che la mescola con parti invece che non appartengono radicate nel territorio però che si mescolano e quindi diventano un'identità a sé stante e inconfutabile insomma tiene assieme con grande forza addirittura attraverso la lingua questa multiculturalità pieno di slang pieno di frasi ad hoc insomma tutta la sua opera è veramente levigata prendendo spunto e forma attraverso le persone che popolano la sua realtà che l'hanno popolata da sempre ma anche osservando attentamente ciò che accade attorno volendo rappresentare soprattutto quello perché forse nella quotidianità lei rileva la sua arma più forte più potente cioè rappresentare ciò che fa parte di tutti i giorni e quanto sia complesso decodificare anche la vita più ordinaria ed è proprio in questi momenti che noi potremmo definire banali o frivoli che noi invece capiamo le cose più importanti della nostra vita chi siamo qual è la nostra identità come ci vogliamo definire e cosa vogliamo essere cosa vogliamo fare e niente io trovo che Zaddy Smith sia un'autrice preziosissima che vi invito ovviamente ad approfondire perché io trovo la sua scrittura a parte brillantemente originale anche molto necessaria e quindi non potevo non iniziare questa prima puntata di antologica con Zaddy Smith io spero di avervi suggerito un po' di letture interessanti che possono diventare interessanti per voi e se siete fan di Zaddy Smith ci sentiamo giù nei commenti sotto nell'infobox ovviamente trovate tutti i link di riferimento a ciò di cui ho parlato in questa puntata e ovviamente io vi invito a partecipare come sempre al Feminist Friday anche su Instagram questo mese ci dedichiamo in maniera tematica a una challenge ovvero ogni settimana ho dato degli spunti per creare dei contenuti su Instagram se volete partecipare trovate giù tutti i link e i riferimenti se parteciperete sappiate che insomma io ne sarò davvero tanto contenta anche perché è una cosa fatta per la gloria quindi non ci guadagno assolutamente nulla però davvero ci tengo tanto e mi farebbe molto piacere leggere tutti i vostri post e le vostre storie quindi niente io vi ringrazio per aver passato un po' di tempo insieme a me in questo venerdì fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti di questa nuova rubrica e poi io direi che ci vediamo per il Feminist Friday a venerdì prossimo o oggi su Instagram invece per tutto il resto al prossimo video ciao